Ciao amici! Ma lo sapete che giorno è oggi? E' la giornata del baso! E io preparerò il barri di dama! In questa ciotola ci mettiamo i pettacchi fullati, olio di semi, l'uovo, ci mettiamo lo zucchero, la farina, facciamo le palline e le cusciamo in forno, ci mettiamo la cioccolata, ecco i miei balli di dama! Grazie a tutti!